Diciamo, vorrei sfatare una cosa, le scelte che portano a dare un incarico a un assessore, rimuoverlo eccetera eccetera, le fa il sindaco. Quindi l'emmetti l'ha scelto Virginia Raggi? Virginia Raggi ha ricevuto una serie di ipotesi sul tavolo, come è accaduto normalmente, e in alcuni casi è accaduto con dei numeri enormi di proposte e ha scelto quello che riteneva opportuno. Nella scelta di un assessore, ovviamente vengono fatte considerazioni di ogni genere, di competenza, di modo di porsi, di rapporti politici, di capacità di entrare indirettamente nel pezzo e via scorrendo. Io Casaleggio l'ho incontrato in vita mia due volte e mezza, tre, mi sembra una persona intelligente, l'ho sentito parlare. Ma che ruolo ha? Se lei lo dovesse definire? Non glielo so dire, è francamente un ruolo che comunque non ha un'interferenza, io non ho visto un'interferenza nella mia vita amministrativa. E con Grillo? E Grillo è il padre nobile di un movimento politico, ogni movimento politico ha una persona che ha una fortissima influenza nella sua storia. E oggi il leader chi è? Luigi Di Maio è il capo politico? Anche? Questo è quello che è successo a Rivini, mi pare. Quindi lei lo riconosce come... Ebbè, la persona che il movimento ha indicato come proprio candidato a essere premere come... Non andano approfittando di una pacatezza.